Buonasera cari telespettatori ben ritrovati in questi spazi dedicati all'approfondimento ormai in queste ultime settimane quasi esclusivamente di carattere politico abbiamo conosciuto tanti protagonisti di questa tornata elettorale compresi anche i candidati a sindaco come l'ospite di questa sera che ritroviamo qui ben ritrovato Massimo Seri buonasera 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 a tutti Allora Massimo Seri è in corsa in lizza per la sua ricandidatura secondo mandato una corsa che lo sta impegnando tantissimo e insomma in questi ultimi giorni direi che sia i toni ma anche i momenti di comunione e condivisione con i cittadini si sono intensificati insomma battute finali veramente di grande come dire impegno e quindi insomma come la giudichiamo questa fase finale della campagna elettorale? Beh siamo veramente nel vivo visto che c'è il giro d'Italia in questo momento siamo veramente all'ultimo chilometro per lo sprint finale e io sono fermamente convinto delle cose che sto raccontando, che sto dicendo parto con un racconto anche di cose fatte molto importanti e la cosa piacevole è che in questi giorni ho trovato tante persone che mi hanno dimostrato affetto, attenzione e fiducia e quindi questo mi fa ben sperare sul risultato che ci sarà domenica però ricordiamo che l'obiettivo è quello di raccontare una città del futuro con un'ambizione di migliorarla, di renderla sempre più interessante e più bella e più dinamica e più efficace Bene, efficiente anche certo, entriamo un po' nelle argomentazioni anche di queste ultime ore come non fare una considerazione su quello che è avvenuto sul passaggio dell'Arzilla ricaduto nuovamente giù e che ha riacceso i toni su questo aspetto, cosa possiamo dire riguardo? Beh intanto possiamo dire che questa è la parte che non mi piace di questo finale di campagna elettorale quando si vuole strumentalizzare e giocare sulle questioni serie che riguardano la città intanto sul ponticello dell'Arzilla va detto che noi stiamo facendo un buon lavoro abbiamo ottenuto un finanziamento dalla regione la regione si sta realizzando il nuovo ponticello pedonale ciclabile dell'Arzilla è stato demolito, non è che è caduto il ponte, è stato demolito per realizzare il nuovo nel frattempo era stato installato una passarella che è un guado per consentire il passaggio delle persone dal Lido all'Arzilla e viceversa un guado che non è un ponticello, quindi anche quando ho letto è crollato il ponte in realtà non è crollato nulla ma in realtà un guado che non è altro un cumulo di sabbia con delle pedane sopra che consentono il passaggio ricordo che il guado ha proprio questa funzione quando c'è il mare forte oppure il torrente Arzilla cresce e può diventare pericoloso il guado viene spazzato via, nel senso la sabbia viene portata via quindi ha fatto il suo lavoro altrimenti diventerebbe una diga e avremmo problemi ben diversi poi c'è un tema che un sindaco non sottovaluta e c'è quello della sicurezza che su questa non si scherza, specialmente quando ci sono i nostri figli lì è una zona di divertimento, è la movida dei nostri giovani caratterizzata per questi eventi e allora in queste situazioni purtroppo è un mese che non ci aspettavamo un mese di maltempo, piogge frequenti e quindi sotto questo aspetto non bisogna sottovalutare nulla e personalmente mi sono adoperato in prima persona anche questa sera ci sono delle iniziative quindi noi saremo presenti con i nostri uomini, protezione civile e polizia municipale per garantire quella sicurezza e per far stare tranquilli tutti, sia coloro che sono lì per divertirsi ma anche i genitori che sono a casa per il modo tale che siano tranquilli su questo non si scherza, non ci si può giocare, non si può fare terrorismo perché poi rischiamo di compromettere delle situazioni per il resto c'è un'organizzazione che funziona gli ingegneri che hanno lavorato anche su questo guado l'hanno fatto con cognizione di causa per il resto il sindaco si preoccupa della sicurezza come ho sempre fatto anche in altre situazioni di emergenza qui non ci siamo in nessuna emergenza fra l'altro nelle prossime 24 ore, 48 ore c'è il buon tempo c'è una previsione per il sabato e la domenica ma noi in quei momenti saremo lì a monitorare quindi per far stare tutti tranquilli Bene, allora affrontiamo anche l'altro discorso la sanità, penso che non ci sia momento di comunicazione che non riguardi questo aspetto ultimamente abbiamo visto anche gli operatori sanitari i medici stessi che lavorano all'interno della struttura del Santa Croce prendere una posizione ben decisa anche a supporto di tutto quello che è stato fatto anche dalla sua amministrazione insomma il lavoro attorno al Santa Croce li trova particolarmente favorevoli a questo riguardo quindi lei ha fatto un'azione che ha incontrato molto il loro consenso io ho fatto un'operazione di verità perché sulla sanità si gioca molto a discapito della sanità stessa a me fa specie, non mi appartiene, io non appartengo a questa categoria che chi si candida a fare il sindaco parli male della propria città parli male dei propri servizi e vada a denigrare determinati ambienti non rendendosi conto che così facendo si fa male alla città si fa male a tante persone serie, professionisti capaci che fanno il loro lavoro e si dà un'immagine e una sensazione sbagliata nei confronti dei cittadini questo tu solo per prendere qualche voto in più io non appartengo a questa categoria poi mi rendo conto affrontare le questioni con cognizione di causa non è semplice nell'amministrazione non ci si improvvisa io l'ho dimostrato in questi anni ci vuole professionalità e competenza sulla sanità si sono dette tante bugie va veramente tante sul Santa Croce che è stato svuotato viene chiuso bene, io ho dimostrato l'esatto che in realtà le cose non stanno così il Santa Croce non è stato svuotato è stato riempito e voglio sottolineare che ciò è avvenuto dal 2015 in avanti in barba alle critiche e alle cose inesatte che stanno dicendo alcuni che forse le dovrebbero dire a se stessi si fanno paladini di una battaglia e su alcuni concetti che non riguardano neanche le competenze dell'amministrazione comunale forse perché sulle altre competenze non saprebbero come muoversi e questo è un limite io mi rendo conto confrontarci con chi le cose le sa e le fa non è facile su Santa Croce ho deciso di fare una cosa facciamola raccontare da chi la conosce veramente da chi la vive veramente al proprio interno e basta denigrare la gente deve sapere realmente come sono le cose e il fatto che tanti medici in prima persona abbiano deciso di metterci la faccia vuol dire che si era superato ogni limite parole loro quando si fa del terrorismo c'è un dovere che ci chiama a dover andare a spiegare le cose se le racconta il sindaco Massimo Seri in campagna elettorale ovviamente rischiano di essere strumentalizzate quando le raccontano i medici primari tutti coloro che sono lì veramente in prima linea con il camice a prestare servizio per la comunità e li ho chiamati li ho invitati sono venuti in tanti quasi tutti e anche su questo la dice lunga non è che ci sono pressioni perché a limite si può condizionare uno o due ma quando vengono tutti vuol dire che qualcosa c'era un bisogno vero che si sentiva dall'interno della struttura e hanno raccontato delle cose straordinarie credetemi certe aspetti hanno stupito anche me che sono il sindaco e non l'avevo comprese figuriamoci il cittadino quando sente tutta una serie di slogan di butad di bugie anche e cosa può pensare in realtà qual è la situazione? la situazione è che noi abbiamo una struttura ospedaliera organizzata su tre siti anche questo è una scelta che parte da molto lontano dal fine degli anni 90 con la condivisione di tutti perché anche queste cose vanno dette e cosa c'è? si è detto che tutta una serie di doppioni non dovevano esserci quindi alcune prestazioni sono nell'ospedale San Salvatore a Pesaro quindi a Pesaro non c'è tutto c'è una parte altre prestazioni sono a Fano a Fano non c'è tutto c'è una parte e queste si integrano e lavorano e lavorano tra loro ma va raccontato che nel Santa Croce dal 2016-2017 sono arrivati una serie di nuovi reparti nuovi servizi sono stati fatti interventi importanti ma soprattutto si sono elevate le specializzazioni e oggi c'è anche una nuova tendenza abituati sempre alla mobilità negativa oggi abbiamo anche una tendenza una controtendenza cioè della mobilità attiva c'è gente che viene anche di fuori regione per alcune prestazioni del nostro ospedale allora non mi piace io non ci sto a raccontare cose brutte della nostra sanità poi io mi rendo conto che ci sono delle difficoltà organizzative viva Dio lavoriamo su due strutture a 10 km l'una dall'altro questo è sotto gli occhi di tutti però raccontiamo la verità sul Santa Croce il Santa Croce non verrà chiuso e su questo lasciatemelo dire a chi si abbassa a livelli proprio di demagogia pura che dice il sindaco ha chiuso il Santa Croce lasciatemi dire che forse la vera verità è che l'unico sindaco che ha difeso il Santa Croce è stato proprio Massimo Seri che non solo non lo ha fatto chiudere con la sua attività ha portato la regione ad aumentare i servizi i reparti e l'attività all'interno del Santa Croce questa è la verità bene allora ultime ore di campagna elettorale Seri mi consente anche di coinvolgerla anche un po' dal punto di vista personale ed emozionale perché poi è l'uomo che dietro i concetti dietro l'idece c'è l'uomo c'è il padre di famiglia insomma c'è colui che vive la quotidianità insieme ai suoi concittadini che cosa ha significato per Massimo Seri fare il sindaco della città di Fano e insomma che cosa è stato in questi cinque anni questo momento così importante della sua vita personale e professionale beh è stata un'esperienza forte perché fare il sindaco della propria città è un'esperienza sotto certi aspetti straordinaria poi uno come me che è innamorato di Fano lo fa con grande passione sono stati cinque anni di sacrificio di impegno anche di determinazione di studio di studio di strategie ma è stata anche un'esperienza sul piano umano ho coltivato molto le relazioni con la gente perché io penso fare il sindaco ha tanti significati da una parte c'è quello di dare delle risposte ai bisogni nel cercare di fare opere nuove per la propria città farla crescere renderla più bella migliorare i servizi ma poi c'è anche un aspetto più umano quello di una di una persona un po' un capofamiglia è come la città è una grande famiglia una famiglia allargata dove il sindaco in qualche modo cerca di capire anche quelle che sono i bisogni quelle che sono le fragilità quelle che sono le bellezze anche delle singole persone in questi anni potrei raccontare tante storie fatte di esperienze personali di bisogni e questo mi ha arricchito molto devo dire la verità mi ha fatto crescere mi ha attemprato e oggi sono consapevole dopo queste esperienze di cinque anni cosa significa essere il sindaco ma soprattutto mi sono attrezzato e penso di essere nelle condizioni di poter affrontare nuove sfide ancora più difficili ma di rafforzare anche questo rapporto con la gente non a caso ho voluto scrivere Massimo Seri sindaco delle persone perché penso che sotto la giacca di un sindaco ci sia una persona un uomo con le sue debolezze le sue fragilità con le sue forze le sue convinzioni ma ci deve essere sempre quel rapporto umano la persona al centro di tutti e questo penso che la gente l'abbia compreso perché trovo un riscontro positivo poi è chiaro sono stati anche cinque anni di sacrifici personali molto forti di stress alcune volte di amarezza perché non nascondiamolo noi mettiamo tutto l'impegno otteniamo dei risultati poi magari ci troviamo in mezzo a delle critiche che alcune volte sono ingiustificabili che tu dici ma chi me lo fa fare alcune volte poi la passione l'amore per la città è più forte e diciamolo anche un'ambizione di ottenere dei risultati sempre più importanti per la comunità che rappresenti ti dà quella carica e quella forza di andare avanti ti stimola e ti porta a raccogliere nuove sfide per il futuro Massimo Seri è lo stesso di cinque anni fa o è una persona un po' cambiata diversa guardi penso di aver mantenuto quella naturalezza del primo giorno nel rapporto con la gente magari all'inizio ero un po' più timido perché non nascondo che proprio i primi tempi quasi mi vergognavo ero il sindaco la gente ti riconosceva ti riconosceva un ruolo poi l'esperienza ti fa crescere oggi mi sento una persona più matura più consapevole più determinata che ha capito bene cosa significa fare il sindaco quali sono le vere responsabilità ma soprattutto una persona in grado di sopportare il peso della responsabilità perché fare il sindaco è una grossa responsabilità sia sulle cose che si fa ma anche su quegli aspetti che riguardano le persone parlavamo prima dell'Arzilla quando ci sono le emergenze guardate in quelle situazioni difficilissime il peso di essere il sindaco di avere una responsabilità dove tu sai che se sbagli puoi compromettere delle cose puoi mettere in difficoltà delle persone è pesante oggi mi sento dire pronto mi sembra un po' scontato perché effettivamente sono cinque anni lui ero anche prima ma la mia consapevolezza delle cose da fare è cresciuta e quindi oggi penso di essere una garanzia per il cittadino che rappresento poi per carità si può sempre sbagliare ovvio però insomma questa maturazione questa acquisizione di consapevolezza e anche l'aver affrontato diciamo insomma in questi cinque anni penso che non ci sia stata situazione che non è stata affrontata da lei e dalla sua amministrazione una prova su tutte è stata veramente la bomba che è stata una prova direi generale di grande impatto emotivo e di stress quindi questo acquisisce anche una consapevolezza di poter affrontare con una certa coscienza e cognizione di causa situazioni le più disparate questa è una dimostrazione che non ci si improvvisa cioè non ci può prendere la persona qualsiasi e metterla a fare il sindaco prima parlavamo di sanità se noi dobbiamo mettere un medico in un reparto cosa andiamo per strada prendiamo la prima persona con poca esperienza a fare il medico penso che nessuno andrebbe ad affidarsi alle sue mani anche se è una persona splendida preparata però ogni professione ogni ruolo ogni responsabilità richiede delle professionalità delle competenze delle esperienze fare il sindaco è veramente complicato oggi più di ieri e non ci si improvvisa e sulle emergenze come sulla bomba veramente qui ho dimostrato e abbiamo dimostrato di essere determinati perché alcune volte qualcuno può avere l'impressione che una persona se gentile non è arrogante abbia delle debolezze in realtà è proprio lì che si vede la stoffa di una persona e la gente questo lo ha capito e fatemi dire una cosa anche con orgoglio qualche mese fa ero alla Spezia al comando generale degli escursori di Palombari quelli che sono andati a fare l'operazione della bomba mi hanno chiamato mi hanno voluto in una loro cerimonia importante proprio per portare ad esempio Fano per la sua efficienza e in quella circostanza hanno proprio voluto sottolineare che non gli era mai capitato di avere un rapporto con un'amministrazione pubblica un comune un'efficienza di quel tipo qui effettivamente abbiamo fatto un lavoro importante di organizzazione e lì si vede la differenza non c'è mai stata improvvisazione poi ripeto qualche volta capita di arrivare un attimino più tardi però ci siamo sempre non azzardiamo mai cerchiamo di fare sempre lavori di prevenzione di essere preparati di seguire i protocolli di aggiornarli e questa è competenza e professionalità ma soprattutto una garanzia per il cittadino questo è stato uno dei motivi per cui ha deciso di ricandidarsi cosa c'è alla base anche di questo rivoler portare avanti un discorso iniziato beh sono consapevole di aver fatto un lavoro importante in questi cinque anni so benissimo che per trasformare una città per fare progetti ambiziosi occorrono almeno dieci anni siamo in una fase di ponte siamo a metà strada e allora per non vanificare tutto il lavoro fatto ho deciso di ripropormi consapevole di poter fare ancora molto per terminare i progetti in essere ma soprattutto per portarne degli altri che stanno nella strategia e nella visione di città che ho realizzato e ipotizzato in questi anni qual è la visione immagino che lei ce l'abbia una proiezione per i prossimi cinque anni la città del futuro che cosa si immagina per fare beh voglio continuare a costruire una città che guardi al futuro una città ancora più bella perché la stiamo trasformando la stiamo rendendo veramente bella moderna dinamica e vorrei che al termine di questi dieci anni qui cinque già fatti e i prossimi cinque Fano sia riconosciuta dai cittadini ma anche dal mondo che sta intorno a noi come un modello di città e questo è il segno il segnale che vorrei lasciare al termine dei dieci anni ma soprattutto penso che questo sia ciò che meritano i fanesi ciò che merita una città bella come Fano che ha un potenziale da esprimere che può crescere molto ancora siamo veramente agli sgoccioli poche ore e poi insomma ci sarà anche il silenzio elettorale quindi questa è l'ultima occasione che ha di rivolgersi attraverso la nostra emittente ai suoi concittadini e ai nostri telespettatori che cosa si sente di dire qual è il messaggio che vuole lanciare in questa serie beh vorrei dire questo intanto di fermarsi a riflettere un attimo di non farsi condizionale da falsi slogan superficiali da coloro che sanno solo criticare e non parlano mai di cose concrete di cose vorrebbero veramente fare forse perché non lo sanno ma soprattutto vorrei dire pensate a Massimo Seri a cosa ha fatto in questi cinque anni in tutti gli incontri che sto facendo chiedo sempre fermatevi un attimo chiudete gli occhi e pensate come era Fano cinque anni fa io vedo oggi una Fano molto diversa ricordo una Fano di cinque anni fa dove le case si allagavano l'erosione delle spiagge era evidente dove c'erano problemi di amante problemi ambientali dove le nostre strade erano un disastro insomma c'era tutta una serie di problematiche oggi vedo una Fano diversa allora mi sento di dire questo nel momento in cui dobbiamo scegliere se far fare il secondo mandato a Massimo Seri dico questo se Fano cinque anni fa era peggio di oggi confermatemi e datemi la possibilità di continuare a lavorare per voi e per Fano bene grazie Massimo Seri sindaco uscente della città di Fano ma ricandidato al secondo mandato per la coalizione di centro-sinistra e insomma quindi grazie anche a voi ai prossimi appuntamenti naturalmente noi avremo l'occasione di sentirla per quanto riguarda il faccia a faccia che ci sarà venerdì e quindi insomma in bocca al lupo come si dice in queste occasioni e grazie anche a voi per essere stati con noi in questo approfondimento arrivederci arrivederci grazie e buonasera a tutti